ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono daniele facciolapicoltore in questo video qua guardiamo quando è ora di doppiare i melari qui siamo sul lapiario della morfa il volo è veramente un volo spettacolare ho guardato stamattina ci sono tre melari che secondo me vanno doppiati mentre lo facciamo facciamo le nostre considerazioni e valutiamo un attimo quelli che sono i ragionamenti da fare prima di mettere il doppio melario seguitemi fino alla fine prima di guardare dentro i melari guardiamo un attimo il volo vedete il volo è un volo estremamente intenso veramente veramente intenso vediamo le api che escono fuori come le frecce e fanno subito il giro per andare a bottinare su questo bosco di falso indaco di amorfa veramente un volo bellissimo che ormai dura da circa una settimana e doppiamo ovviamente quei melari che sono da doppiare non si doppiano tutti il ragionamento da fare qual è prima di tutto si va a vedere un attimo la fioritura vedete qua c'è su anche l'ape da qui in poi è ancora tutto da fiorire vedete i fiori sono qua qua si stanno aprendo da qui in poi ancora da fiorire da qui in poi ancora da fiorire quindi siamo circa 60 per cento della fioritura anche qua stesso discorso manca ancora un 30 40 per cento di fioritura questa qui ancora addirittura è più indietro vedete che la fioritura qui c'è ancora tutto lo stelo da da completare quindi possiamo stimare almeno 4 o 5 giorni di importazione così come questa questo è il primo fattore da dover valutare dobbiamo avere ancora davanti a noi della fioritura ok qua si vede bene ci sono sulle api questo ancora deve fiorire questo ancora deve fiorire questo qua oramai è fiorito tutto però vediamo che ce n'è ancora che deve aprire ok qui abbiamo un bosco di amorfa che si estende per moltissimo posto quindi va qua va lontano fino contro il fiume quindi qua siamo circa un chilometro forse anche di più un chilometro qualcosa dal fiume quindi tutta amorfa fino al fiume in più le rive del fiume sono completamente infestate dalla morfa da premettere che questa è una zona che sta dando in molte altre zone qui da me la morfa purtroppo non sta dando nell'appiare un uovo dove ha fatto l'appiare un uovo di acacia la morfa c'è ma non sta dando nettare vediamo il polline ma non vediamo purtroppo il nettare allora vediamo un pochino allora il melario ovviamente non è intasato che vi dice che bisogna doppiare il melario quando vedete che sta per opercolare sbaglia secondo me ok vedete questo qua è un favo che è bello pieno questo è prossimo all'opercolatura però secondo me se voi doppiate i melari quando sta per opercolare siete già in ritardo allora come vi ho fatto vedere questo è un telaio che è pieno ma qua è ancora da completare come vi ho fatto vedere prima bisogna guardare quanta fioritura abbiamo davanti qui il laterale è stato cominciato ma è da finire vedete qua stanno percolando un pochino insomma questo melario qua diciamo così che all 80 90 per cento ok chi vi dice che c'è da mettere melario quando cominciamo per colare secondo me sbaglia perché con quattro cinque giorni di fioritura tempo permettendosi aspettare l'opercolatura vuol dire intasare il melario e rischiare di intasare anche il nido ok queste cassette qua le ho già controllate sotto questo è un melario che è pesante adesso io metto il melario sotto ma è indifferente non cambia nulla se metterlo sotto o sopra è esattamente la stessa cosa quindi direte voi allora perché lo metti sotto lo metto sotto perché nei miei pensieri che magari possono anche essere sbagliati le api si sentono più libere quindi sentono la presenza di spazio la febbre sciamatoria potrebbe essere calmata con questo metodo qua e il miele viene stivato più facilmente però ho provato anche a metterli sopra i melari non cambia assolutamente nulla ok quindi questo l'ho doppiato e sono contento secondo me c'è da andare c'è da venire qui con un pochino d'anticipo dopo magari ho due melari che non sono intasati come quelli che piacciono su facebook però io lavoro in questa maniera qui ok questo qui come vedete stesso discorso forse questo qua è anche un pochino più avanti rispetto a quello che vi ho fatto vedere adesso però siamo tutti attorno all 80 90 per cento manca veramente poco perché sia opercolato questo miele d'amorfa dopo quando lo avrò smielato lo assaggerò e penso di portarlo a concorso come ho fatto due anni fa perché questa postazione qua è veramente una postazione da amorfa molto molto promettente questa postazione qua e anche qua lo metto sotto quest'anno ho doppiato sono i primi melare che doppio quindi non ho ancora mal di schiena e quindi mi posso permettere di metterli sotto negli anni in cui doppio tanto poi mi viene mal di schiena e non li metto più sotto e vedo che anche se li metto sopra il risultato non cambia quindi potete metterli dove volete certi apicoltori anziani qua della zona anche che hanno alveari aziendine grosse anche loro dicono che mettendolo sotto insomma le api si sentono un po' più un po' più larghe un po' più libere ok ecco qua anche questo qua un altro bellissimo melario veramente molto 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 bello che qui i favi ormai sono pieni qua si vede che ormai stanno allargando qua stanno cominciando ad percolare e quindi è proprio è proprio arrivato il momento di o togliere se fossimo a fine fioritura o di doppiare come vedete io doppio 3 melari su tutto l'apiario non è che non è che le altre casse siano senza miele ma c'è che non sono pronte per essere doppiate questo è le fiori primaverile che ho smielato adesso le api lo ripuliranno molto molto velocemente e cominceranno a mettere il nostro miele diamorfa ecco fatto quindi qui abbiamo doppiato quello che c'era da doppiare adesso tanto per farvi vedere a titolo informativo anche le altre cassette non è che siano lì che che aspettano sono anche loro a un buon punto non sono ancora al punto di doppiare magari qua c'è da aspettare ancora un giorno due poi verremo a doppiare anche anche su queste alcune sono ancora indietro perché sono in corso dei cambi regina questa qua è ancora indietro ma qualcosa comunque hanno tutte su nel melario perché quando c'è importazione anche anche le famiglie magari che sono orfane vedete questa qua è bella anche le famiglie che sono orfane comunque portano su perché una volta che sotto è intasato portano su ecco quello lì è il discorso quando c'è l'importazione l'importazione c'è per tutti per le orfane e per quelle non orfane qua sono salite da poco stesso discorso che ho fatto per le altre sui nuclei che doveva essere doppiato l'avevo già doppiato si fa lo stesso identico ragionamento che sulle famiglie da 10 allora questo qua è un altro video breve quando è che si deve doppiare l'abbiamo visto io lavoro in questo modo qua c'è chi preferisce aspettare che i melari vengano intasati io cerco di non arrivare in quella situazione perché cerco di non intasare il nido prima di tutto e il melario quindi la mia politica è quella di dare sempre un pochino più di spazio in modo che possano massimizzare sempre il raccolto andiamo a doppiare anche in un altro appiario ma faremo un altro video per quello io vi invito intanto ad iscrivervi ad abbonarvi e a mettere il like se il video vi è piaciuto un saluto a tutto ragazzi e Grazie a tutti.